Il progetto di sviluppo riguarda principalmente il settore dei manufatti e dei prodotti tipici di qualità e il comune obiettivo è quello di potenziare e sviluppare attività di incoming e di animazione del soggiorno dei turisti nei rispettivi territori. Una volontà manifestata da tempo e che fa parte di quella costruzione dell'Italia mediana che deve arrivare dal basso, secondo il sindaco di Gubbio Stirati, nell'illustrare il patto di intesa con il comune di Chianciano Terme. Se quest'ultimo troverà infatti nell'azienda artigiane di Gubbio degli interlocutori utili al rilancio del centro storico, l'amministrazione gubina può invece facilitare la promozione dell'eccellenza del territorio con un marchio che le raggruppi in un'area, quella chiancianese, che può contare su numeri turisti importanti, intorno a 700.000 unità all'anno. Diciamo che tutto nasce da un incontro quasi casuale e fortuito dal nostro consigliere delegato ai trasporti, per cui da questo incontro è nata questa implementazione di un trenino turistico, quello che poi è qui a Gubbio, a Chianciano, da lì si è parlato di artigianato, si è parlato di attività artigianate, si è parlato di alta qualità di un prodotto importante come quello di Gubbio, noi avevamo un centro storico che in qualche modo si stava un po' spopolando, un po' desertificando, soprattutto sugli esercizi commerciali, abbiamo ottenuto la disponibilità di una decina di negozi, di proprietari per avere per tre anni i negozi gratuitamente, è iniziato questo percorso importante ritengo e che ci ha portato alla firma oggi di questo gemellaggio, di questo patto di amicizia. Credo che oggi il turismo non è più solamente all'interno del paese o del piccolo centro, noi siamo a Chianciano Terme, facciamo anche un bel numero di presenze, però da solo oramai si fa poco. Intanto c'è questo rapporto stretto con il mondo dell'artigianato, artigianato di tradizione e di qualità, che può trovare nuovi spazi di mercato, nuove vetrine, nuovi luoghi per potersi raccontare, esprimere e promuovere. Poi diciamo che c'è questo lavoro al quale io credo tantissimo e che io insisto con il definire integrazione territoriale, cioè i rapporti tra le varie regioni, le Marche, la Toscana in modo particolarissimo, fino all'Emilia Romagna per quello che ci riguarda, ed è un tema trasversale questo, che riguarda la formazione, riguarda l'artigianato, riguarda il turismo, riguarda la cultura, riguarda le infrastrutture, riguarda i servizi, i trasporti, la mobilità, la sanità. Previste dunque azioni mirate in ambito turistico a cominciare dalla reciproca promozione negli uffici di accoglienza turistica sui canali comunicativi a propria disposizione e sabato 6 agosto sarà una giornata di festa a Chianciano Terme con diversi appuntamenti che vedranno l'insediamento delle aziende gubbine nel centro storico e la partecipazione della società balestrieri di Gubbio.